e benvenuti a tutti amici del canale in questo nuovo video video di ribero di ripiego perché io stavo andando in un altro spot solo che poi non ne ho capito niente e quindi alla fine mi sono spostato qua c'era veramente troppa gente troppa troppa non c'era un angolino per pescare quindi sono venuto qui dove sapevo che bene o male la situazione più tranquilla adesso lì c'è una piccola foce dove l'altra volta mi ha dato delle piccole soddisfazioni infatti mi sono portato entrambe le canne proprio perché come l'altra volta voglio provare prima un approccio un po più pesante e poi se non vedo il risultato in qualcosa di più pesante passare al light all'ultra light comincerò con qualche cosa un po più pesante e poi vediamo quindi monto un'artificiale monto le canne e vediamo un po se esce qualcosa l'ultima volta questo ciclo d'ortogrammi ha dato le sue soddisfazioni c'è un po' Eccolo Eccolo Slamato, slamato, eccolo di nuovo L'ho preso di nuovo, aggredito Questo è più bello Piccolino sempre, ma più bello di quello di prima Cos'è? Un lucetto Un lucetto E' un po' che non ti facevi vedere Aspetta un attimo che ti liberiamo Fai fermo, fai fermo che tu hai una capacità di farti male da solo Devi stare fermo Devi stare fermo che ti libero immediatamente Un piccolo lucetto Mamma mia che sono aggressivi questi pesci Lo lasciamo Lasciamo andare Ho preso in realtà qualcos'altro Si è slamato E il lucetto E il lucetto l'ha attaccato il jig subito dopo Sono incredibile Sono incredibili questi pesci E il lucetto l'ha E come corre Vieni piano 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 Non lo corso Credo che sia una lecciotta Vedrà come combatte Dove essere un lucetto E cosa sei? Una lecciottina Buona 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 Ecco qua Una meravigliosa lecciotta stelle Bellissima La liberiamo Anche oggi provo a fare un po' di selezione Sto montando Un piccolo mino Della Ravala Veramente un gioiellino Da 4 grammi Vediamo se lo attaccano Cosa è che chiaramente 4 grammi Fa fare molto meno distanza Ecco subito Ha slamato Ha slamato Stanno arrivando altri sub E mi sa che si spaventeranno di nuovo Stanno arrivando altri sub Eccolo eccolo Come combatte mamma mia Si è calmato di combattere Si è calmato di combattere Non combattere più Immaginavo che eri tu Appena hai smesso di combattere Ho detto questo Lucetto Eccolo Allora come sei combinato Eccolo Unicamente Un comunque Eccolo Eccolo E questo combatte Questo combatte Questo combatte Di più Quindi non credo proprio che sia bucerto Cosa sei Cosa sei Un carango del Mediterraneo Carango del Mediterraneo Sul Rapala Bellissimo Liberiamolo Questo subito Aia Buono 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 Non tirare Che spettacolo di carango del Mediterraneo Meraviglioso Vai L'intralight Certo Ci sono prede piccole Ma Estremamente divertenti Ebbene amici Siamo così giunti anche alla fine di questo video Che comunque è stato molto interessante Abbiamo iniziato Con dello spinning medio pesante Che però dopo poco Dopo una trentina di lanci Bene male Ho visto che non c'era risposta di nessun tipo Quindi sono passato al light ultralight E lì è stato veramente divertente Con svariate catture slamate Quindi avete visto Un paio di lucette Una pesce molto disfrattato Poverino Ma io onestamente lo trovo Molto simpatico Ma che spesso Permette anche di scappottare In situazione A meno ti dà quella Piccola gioia Anche in giornate Di totale apatia E poi comunque c'è stata La lecciotta C'è stato il carango Quindi assolutamente soddisfatto Della pescata Bene Io vi ringrazio Per aver visto il video Fino alla fine Mi raccomando Like Iscrivetevi E ovviamente Noi ci vedremo Alla prossima pescata Quindi Alla prossima